Prego, potete entrare, ragazzi, ecco il codice, ve lo sto mostrando. Vai, fiondatevi dentro, chat! Eh, madomma mia! Oh mio Dio! Salve, bimbi! Vedi che non era così difficile, però, eh. Guarda questo, c'è un cosino rosso che corre. Guardalo! Sì, ok, va. Anna, buono. Vedi, vedi. Lo voglio anch'io, quello no. Se loro ci sono riusciti, no? E quelle due no. Come è possibile? Ma questo si chiama... Anna, stai zitta, però. Scusa. Iniziamo, spero di non essere io impostore. Se sono io impostore, per cortesia, cercate di... Cioè, dai. Non buttate. Non barate, non barate. Non uccidate subito, Lion. Non è bello vedere la cosa di un fantasma. Oh, che bello. Guarda che è partita abbondante. Aiuto diverso, che paura. Ma quanti sono gli impostori? Due. Due ha messi, ha messi due. Ok. Dai, oh, mi raccomando, giochiamo bene, facciamo vedere che siamo forti, eh. Ovviamente. Esatto, dobbiamo fare le tasche. Guarda, la parola delle tasche in alto. Sono un milione. Sì, Strei, concentrati. Sono un botto, queste tasche, ragà. Dai, queste tasche. Concentrati. Dobbiamo vincere. Concentrati, perché qui ci sarà sicuramente qualche persona con l'asciugamano, eh. Ma più di una, anche. No, c'è tutto. Ma di brutto. Ma di brutto l'asciugamano, ti pensa che io ho visto qualcosa di... Allora, secondo me conviene che uno di noi sta sempre vicino al bottone. O comunque buona parte del tempo, no? Se vuoi vado, eh. Perché così magari evitiamo che ci killano. Ma vicino, ma vicino. Aspetta. Restai attento perché due... Ho visto che ti venivano vicino. Ma di brutto, eh, di brutto. Ma c'è un po' di gente ferma. Allora, uno è esploso. Quindi era simile a Feri e Giorgia, questo. Oh no, è anche un altro, mi sa, tra poco. Vabbè, non importa. Non credo che siano gli impostori, perché... Cos'è? Cos'è? Che è successo? Sei morto? Sì. No! Strei, ti hanno ucciso. Ci credo. Dai, Strei, fai schifo. Ma questo non era strecato. Hanno riportato un altro cadavere. Due morti, pure Strei. Due? Che si stanno a giocare di frutto, Ryan. Aspetta. Allora, fammi pensare. Allora, bisogna votare per forza uno, eh. Io non dirò niente. Parlerò di altro se volete. Che era in electrical. Non ho mai. Dicono che Lion è safe. Aspetta, aspetta, sto a pensare. Non guardare la chat, tu la guardiamo noi. Non ti preoccupare. È magic. Sì, sono sicuro, sono sicuro. È magic. Vai, andiamo, andiamo. È magic. Senza paura, senza paura. Non lo vedo, qual è? È quello rosa. Sono convinto, sono convinto. Tu sei un pollice in giù, scusate. Dica che succede qualcosa di strano. No, vabbè, mi sembrano persone gradevoli. Ok, meno male. No, qualcuno ha tirato qualche... No, sono patati, sono patati. No, sono tutti gradevoli, ma non si sa mai, scusa. Ah, tu li dici, non era lui. Scusa, ma... No, no, ma scusa, ma sulla base di cose hai detto che era lui. Mi ha preso quell'attimo di cosa, però ho sbagliato. Scusa, magic. Cacchio, ho proprio sgravato, eh. È iperdificile, ragazzi. Cavolo, magic, ora mi dispiace moltissimo. Pensavo, mi sembra... Però, niente, che c'è? Ma c'è qualcosa di stranissimo, mi sei mosso da solo lo pipino di lì. Come ti sei mosso da solo che signica? Ve lo giuro, non so che cosa è successo. Tipo un vento d'ora. Vabbè, Alex, stai zitto, non ce ne frega niente. Cioè, dai. Io stiamo vicino al pulsante. Io stiamo vicino al pulsante, eh, Lion. Andiamo insieme, strega, così in mira. È stato un angelo custode, in realtà. Va bene. Però non ti aiuterò in caso ci sia un impostore, sappilo. Come, no? Fai l'allarme, fai tipo... No, dai, non vale. Solo che se vedi che c'è qualcuno vicino, no? Io c'è sempre il pulsante pronto, Lion, come lo vuoi. Allora, Beatrix, secondo me, non è. È quella che aveva l'altro di cadavere. Preve, 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 preve. Che è successo? È Sara VGF. Lo mi voleva coltelliare di brutto. Ma sei sicuro? Sì, sì, sì. L'ho salvato, dai, buono. Eh, mi voleva coltelliare. C'è Anna che non parla abbastanza, secondo me. È vero, eh. È che mi sento a disagio, perché vedo tutta sta gente che non si è abituata che siamo in 15, capito? E quindi ogni due secondi mi devo girare di scatto. Io voto, lo dico pure, Sara VGF, secondo me. Dicono che Sara ha pure ventato, dicono. Ha ventato? Ma non ho scritto seghe, perché mi ha censurato secondo me. Vabbè, non importa. Ehi, 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 ragazzi, c'ho questa impressione. La volta ce l'abbiamo preso. Sono infallibile, ve lo dico io. Vediamo chi vota. Sì. Oh. Oh. Quello, quello lì non vota. No, non mi dire, gli è preso, gli è preso qualcosa. Amico, vota, vota. No, Sara VGF è quittata. No. Ma magari era lei. E allora era lei o no? Eh, votiamo. No, dovete rivotare. Eh, votiamo lui, che mi sembra Sus, Alakbar. Sì, sì, lui è Sus. Ok, va bene. Mi sembra Sus. Ci ha messo tanto tempo a decidere, quindi è Sus. Esatto, è vero, è veramente Sus uno che ci mette tanto tempo. Beh. Comunque, Anna, si continua a... Sai qual è la cosa inquietante? Che tipo, tu ti muovi e i tre e quattro ti seguono. A me prima mi hanno seguito in quattro... Ma ha preso, dun male. Questo era il non certo. Perché qualcuno mi ammazza. Anche a me seguivano in molto prima. E neanche Sara era... No, raga, abbiamo fatto un casino, eh. Raga, ma porca vacca, non abbiamo preso uno. Non lo sappiamo di Sara. Infatti ce ne sono due. Magari una era lei, eh. Come facciamo a non saperlo? Se fosse stata avrebbe detto... No, lo dice che è un impostore, eh. Lo dice. C'era scritto che non era l'impostore. Lo dice. Eh, no, ma io non posso più premere. No, premo io perché qua mi sta seguendo Gesù. Eh, non so. No, in che senso? Boh, Alex, tu se muoi dillo, urla. Non lo so, Lion, io se muoio urlo. Oh, ma Gesù adesso segue me! No, raga, c'ho paura, c'ho paura, raga. Porca vacca. Anna, sei l'impostore? Ma sei matto? Mi stanno seguendo in continuo, c'ho paura. Io non so perché ho l'ansia per te, Lion. Non lo so. Vediamo un po'. Ragazzi. Oh, uno ha premuto. Uno ha premuto. Uno ha premuto, avrà qualcosa da dire. Leggi, Alex, leggi. Lui sa, vediamo un po' che scrive. Sì. Uno scrive. Dai, scrivi. Sì. Secondo me, Alex, ha detto... Ma non è vero, no, stai falsando, amico mio. Ha detto che hai fatto finza di fare una tasca, Alex. Non è vero, lo giuro, l'ho fatto. Alex, sei stato te? No, no, io l'ho fatto tutte le tasche. Alex, se te me lo devi dire perché siamo tutti noi contro gli altri e tu mi tradisci. E combattie, Lion, non sono io perché io ho fatto le tasche. Io ho fatto le tasche, Lion, te lo giuro. Non ci posso credere. Lo giuro, Lion. Infatti è ovvio che era, Alex, perché è morto Stray. E nessun fan avrebbe mai ucciso Stray all'inizio. Vero? Alex, io non ci posso credere. Allora, io l'ho ucciso Stray Gatto, ma non so stato, io lo giuro. Lo giuro, Lion, non buttarmi fuori. Alex, allora, se sei tu me lo devi dire perché... Perché io non sospetterete. Non sono io. Ascolta, secondo me è quella rossa che l'hai portato prima al canale. Se mi sembra che stia quasi dicendo che sei stato te. No, no, non contare le mie parole. Allora, che stai mettendo nella cattiva strada? Mi stai ingannando, Trey. Oh, raga, mi state confondendo di brutto però così, eh. No, non voglio più dire nulla. Trey, dammi un indizio. Oddio, non so più chi è. Aspetta. Ok, allora non è Alex, perfetto. E vogliamo votare, Lion, scegli tu. Votiamo giù, 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 il bianco. Ok, via, via, fuori, fuori. Stavano scrivendo però Alex nel voto siderale, eh. Ma non è Alex. Non so, io perché dovevo dire queste cattiverie. Non è Alex. Qualcuno ha votato me? Oh, hanno votato anche a te. Anche a me hanno votato uno. Hanno fatto bene, Alex. No, io non so, Sus. Ci avremmo preso. Incredibile, incredibile. Cioè, siamo giocati due nel lato. No, per favore, cioè, ce ne sono due. Non abbiamo chiapato neanche uno. Lion, fidati, secondo me, io ho detto giusto, eh. Secondo me è quella che hai riportato prima, quello rosso. Te lo dico. Che è quello rosso? È quella che hai riportato prima. Io penso di sapere chi sono, ma non ne sono certo. Mi stanno assoluto inseguendo. Ma un botto? Cioè, Alex si è portato una manta. Infatti questa cosa confonde, perché a me mi seguono, ma lo fanno per stare vicini a me, ma non per uccidermi. Però io non lo so e mi ingrippa. Ma come va a sdicciare? Che fecato? Come ha fatto quello là con me? Non si fa. Non si sdiccia. Poi io, tra l'altro, ho anche quasi finito le tasche. No, questa non la faccio. Meglio, meglio. Ho un attimo paura di cosa potrebbe succedere. Io sto per morire di brutto. Perché ci sono persone che a un momento vanno in coppia o che stanno tutti troppo vicini. Esatto, si muovono in gruppo di continuo. No, l'aglio di un paura sto per morire. No, ma io ho un'impressione. E parla però, mi sta a fare l'ansia, che c'è? Hanno fremuto? Paura. Sono strana. Non lo so. A un certo punto io non vedevo più nessuno comunque. Vediamo un po' quello che dicono. Leggimi. Vedi? Alex è safe, quello che prima Marcus ha detto. Vedi? Questo è un bravo. Ha un bravo. Ok. Vediamo quello che dicono altri, perché quello non è lo stesso che ha premuto. Sarà Beatrix allora, dai. Te lo dico, secondo me lei. Votiamo Beatrix. Vai, vai. Secondo me lei, perché ha reportato troppo velocemente. Alex, vedi di... Gesù continua a dire che Alex ha fatto finta di fanatossi. Alex, se sei te... Se sei te... Ma io te lo giuro. Ti arrabbio, eh. Non mi devi far arrabbiare stasera. Mi hanno già fatto arrabbiare quelle due. No, non ti voglio far arrabbiare. Io non ti voglio vincere questa partita. Adesso mi sono messo l'impegno. Ma non ci sono qualcuno. No, no, raga, ma nonna mi sa che è crashata prima. Sì, è crashata prima. È crashata prima, non l'hanno uccisa. Oddio. Cioè, allora, qua una è Anna per forza. Non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Alex, se sei te... La nostra amica là, la nostra amica là che sta in silenzio tutta la live, io l'ho sentito che non ce l'ha... Ma chi è che sta in silenzio, scusami? Tu, Anna, sei. Te lo dico io. Ma se te lo... Allora, senti. Alex, intanto, ogni volta che punta il dito, ne buttiamo fuori uno e non è mai quello. No, è Gesù Cristo, secondo me. È Gesù Cristo. Io ho una tua cura di lui. È Gesù Cristo. È Gesù Cristo di brutto, secondo me. Non posso prendere. No, no, mi stavo seguendo. Non lo vado io, non lo vado io. Non lo vado io, non lo vado io. A parte che gli impostori sono due e noi non ne abbiamo trovato manco uno. Quindi se ne acchiappamo uno è già tanto. Allora è Gesù Cristo. Dai, deve essere uno dei loro due. Dai, scusa, allora, o è quello o è veramente Alex, abbi pazienza. Ma allora, lo stanno uccidendo nessuno, stiamo buttando fuori tutti noi. Buttiamo fuori Gesù Cristo. Ecco, basta. Sarà per forza. Cioè, a questo punto, anche a caso... No, da come si muove, da come vedevo io, era molto sus. Anna è sicuro, ragazzi. Cioè, non c'è dubbio che sia Anna a questo punto. Scusa, ma state scherzando? Se becchiamo l'altro, buttiamo fuori Anna. Ma sul serio? Dì, Anna, sicuramente sei tu l'altra. Sicuro. Alex mi puzza lontano 20 chilometri. Che sta a puntare il dito. Oh, ha puntato il dito contro me. No, non ci posso creare. Cioè, se la fa un disastro. Per favore, Alex, per favore. Avete una possibilità. Lion, te fidi di me di buttare via Anna. Cioè, devi buttarla fuori. No, non mi fido di te. Alex, per favore. Ed era quella rossa. Ed era Gesù Cristo. Ed era quello bianco. Ed era quello verde. Alex, per favore. Lion, te lo giuro. Non sono io. Te lo giuro. Te lo giuro. Metto la mia casa di Minecraft in gioco qua. Amici, però... Mi sa che siete un po' tanto in pericolo. Dobbiamo votare, Lion. Io non posso preme. Ed è anche tu. E no, infatti. Abbiamo già premuto. Oh no. E siete in cinque. Se uno muore, mi sa che è finita. Premete. Se volete premere. Premete. Questa task del... Ma fai qualcosa, Anna. La task è problematica, vero? Eh, ma... Anna, se capivo... Pezza di zozza. Dai, se beccavamo l'altro... La buttiamo via ad Anna. Allora, io e Lukia VGF... Mamma mia, best pulse ever. Dai, abbiamo pure il succato. Questa è colpa di Alex. Mamma mia. Ma io di Anna lo sapevo, ragazzi. Si era capito che era Anna, comunque. Eh, un pochino. Grazie per essere stati con noi, my friends. La prossima volta vedrete che ci sarà spazio anche per voi. Se non avete potuto giocare oggi, i posti sono solo 15, ma penso che capiterà un'altra occasione. Sicuramente lo rifaremo. Buonanotte, grazie a tutti di essere stati con noi. E Lion out!